Buongiorno a tutti ragazzi, allora oggi parliamo un po' in generale di quella che è stata la partita contro Lione e dal mio punto di vista di quelle che sono state le dinamiche, i vari sbagli, errori, parliamo un po' di tutto Allora, la prima domanda che vi faccio è questa Noi abbiamo perso con Lione, ok? Abbiamo perso, bene La formazione che è stata schierata da Sarri, secondo voi, e vi pongo questa domanda, era corretta? Oppure c'erano degli sbagli, degli errori, c'era qualcosa che non andava? Adesso io vi faccio questa domanda, allora, noi sappiamo benissimo che la nostra squadra ha dei limiti e ha delle carenze Sappiamo bene, soprattutto dove, i laterali difensivi, che sono due giocatori, che non vanno bene Il centrocampo, che non è stato rinforzato sicuramente, che uno come Rabiot non è né carne né pesce Quindi non dà nulla in più a questa squadra, lo sappiamo, ok? Ma la domanda che io vi pongo è questa qua La nostra rosa, è più scarsa della rosa del Lione oppure è più forte? No, perché qua dobbiamo iniziare a parlare di questo, no? Perché noi non è che abbiamo perso 1-0 al Bernardo, Santiago Bernardo aveva a correre al Madrid Abbiamo perso 1-0 contro l'Olympique di Lione in casa loro, ok? Ma vi ripeto, anche se noi abbiamo dei giocatori, lo sappiamo benissimo, che non sono adeguati, ok? Dei giocatori che non danno la possibilità a questa squadra di essere una squadra probabilmente veramente competitiva in Champions Salvo miracoli, va bene Ma la nostra squadra e la nostra rosa è più scarsa di quella del Lione? Sì o no? Rispondetemi a questa domanda, no? Io vi dico cosa ne penso La nostra rosa è molto più forte di quella del Lione Dubbi non ce ne sono Sicuramente non è una rosa stratosferica e ripeto, lo sappiamo benissimo Ma una squadra che è una rosa come la nostra può sicuramente 100% passare il turno con Lione Adesso però il discorso è questo Io so benissimo gli errori che ha commesso la società Nel senso sono consapevole degli errori che ha commesso la società, del mercato che è mancato Del fatto che abbiano o addirittura non abbiano aumentato il livello qualitativo di questa rosa con il mercato Lo sappiamo, hanno commesso un sacco di errori, va bene Ma detto questo, non si può dire che la società abbia dato una squadra in mano a Sarri Che non può, non in grado di passare il turno con il Lione Ok? La squadra per passare con Lione, Sarri in mano ce l'ha Detto questo, è chiaro che se però Sarri mi va a commettere degli errori clamorosi Clamorosi a livello di formazione Schiera una formazione senza senso Allora a quel punto, siccome non abbiamo 15 giocatori fenomenali Ok? Ma probabilmente ne abbiamo 4-5 È chiaro che se tu inizi con quei 4-5 a metterli in posizioni dove non rendono A cambiare dei ruoli di calciatori che sono e che hanno un'importanza cruciale poi nello svolgimento della partita Inizi e continui a tenere dei calciatori fuori ruolo I calciatori che non devono giocare continui a mettere in campo oltretutto fuori ruolo E mi riferisco a Pjanic Mi metti uno dei due giocatori più forti che c'hai Due o tre giocatori più forti che c'hai in rosa A fare un lavoro che non è il suo E mi riferisco a Dybala Ok? Non mi metti nessun collante tra centro campo e attacco E mi riferisco al fatto che Ramsey non è partito titolare Allora è chiaro che già siccome tu c'hai una squadra mediamente forte Mediamente, ok? Mediamente Perché c'ha qualche elemento buono, qualche elemento molto forte e altri elementi che non sono buoni A quel punto lì Già non sei proprio nella situazione più rosa possibile A livello di elementi che possono andare in campo Se allora a questi tu mi vai a sbagliare completamente la formazione Me li metti in un modo confusionario Senza nessun senso e senza nessun nesso logico Viene da sé che poi dopo rischi che vai a Lione e perdi Ok? Ma perché vi dico che questa partita è stata Se abbiamo perso in qualche modo la sconfitta è nata da degli errori di formazione Quindi in questo caso si può dare colpa alla società, ok? Per il mancato acquisto, per in estate piuttosto che adesso nel mercato di gennaio Si può dare colpa alla società per il fatto di aver in qualche modo ottenuto dei calciatori che non andavano bene Si può dare la colpa alla società per il fatto di non aver dato a Sarri degli elementi e dei giocatori adatti ed adeguati al suo gioco Si possono dare mille colpa alla società, va bene Ma non si può dire che la società non abbia dato in mano una squadra a Sarri sufficiente per passare il turro con il Lione Cioè non si può dire che Sarri è una squadra che non è in grado di passare il turro con il Lione Cioè da questo punto di vista la società, anche se io non la difendo mai, però la difendo La difendo perché la squadra e gli elementi e gli uomini per passare questo turno La società Juventus FC a Sarri è la data, ok? Ok, allora qual è il discorso? Il discorso è che il più grande sbaglio che è stato fatto è il fatto che abbiamo perso questa partita Le più grandi responsabilità sono in mano l'allenatore L'allenatore che uno non dà e non comunica una mentalità convincente per riuscire a portare a casa i risultati Perché lo sappiamo benissimo Sarri com'è Sarri è un allenatore che dal punto di vista di relazione che può avere con i calciatori Di coinvolgimento che può dare, di in qualche modo anche feeling con i calciatori stessi Il rapporto umano non è adeguato, non riesce, non ce la fa Quindi già i calciatori 99 su 100 non lo vedono proprio benissimo In più, se a quel punto l'unica cosa su cui Sarri siamo stati sempre sicuri che era praticamente bravo Era il fatto che aveva una buona visione di calcio Che faceva delle scelte giuste, metteva in campo le formazioni corrette Ma se lui mi sbaglia completamente le formazioni Mi mette in campo dei giocatori che non andrebbero messi come pianici Mi mette Di Bala fuori ruolo Mi fa un Ramsey in panchina, fa un disastro dopo l'altro Allora è chiaro che la situazione, poi dopo vai a Lione e perdi Cioè è inutile, ma è normale perché questo sta facendo un errore dietro l'altro Ma perché vi dico che sta sbagliando? Perché, e lo ripeto, lo ripeterò mille volte Nel momento in cui Sarri ha schierato una formazione decente Quindi ha schierato una formazione corretta Logicamente intelligente da mettere Sin dall'inizio della partita Il Lione non ha più toccato boccia Non ha più visto, facevano fatica a superare la metà campo Cioè ragazzi, diciamoci la verità Questi qua non hanno sceso, non hanno fatto più niente Da quando è stato inserito a Ramsey E da quando è stata messa finalmente sta prima punta In Europa nessuna squadra gioca senza prima punta Nei top club c'erano tutti la prima punta Un motivo ci sarà, no? Ci sarà un motivo per cui le grandi squadre Le squadre che hanno vinto tutto hanno sempre avuto delle prime punte E David Villa nel Barcellona E Suarez nel Barcellona E Diego Milito nell'Inter del triplete Benzemara una prima punta nel Real che ha vinto tutto Ma vogliamo metterlo su Iguain? O vogliamo lasciare e giocare col falso Nueve? Ma che falso Nueve? L'unica squadra che può permettersi un po' di giocare col falso Nueve Era quel Barcellona stellare che c'aveva tra l'altro Messi come falso Nueve Pure Manchester City di Guardiola Non aveva mai falso Nueve Perché c'era Aguero Aguero era una prima punta Ok? Quindi dal momento che la squadra inizia a giocare benissimo O comunque non dico benissimo Ma inizia a giocare Schiaccia l'avversario Non lo fa più respirare eccetera Poi non fa gol per una serie di situazioni Sfortune eccetera Ci sono dei rigori che non sono stati dati Non mi interessa A me, io ve lo dico sin da subito A me non mi importano dei rigori Io sono juventino Non mi attacco ai rigori dati o non dati Io voglio vincere dimostrando di essere più forte di quello che ho davanti Punto Non mi interessano i rigori Non ne voglio sapere Ok? Se a me non mi danno un rigore Allora fa la mentalità di uno vincente Non ti danno un rigore Immaginati che il rigore c'era Io dal mio punto di vista Quei rigori si potevano dare come no Perché sia Ronaldo che Di Bala Cascono giù come delle pere Quindi c'è Può anche benissimo non darli Però immaginati che il rigore c'è E non ti danno il rigore E fanno un errore Nella mia mentalità Benissimo Non mi hanno dato un rigore che c'era Allora io Alla squadra Versailles Gli faccio due gol Non gliene faccio uno Che era quello del rigore Gli faccio uno Più ancora un altro Stop Non stiamo ad attaccarci Il rigore Le cose Quello lasciamolo fare Alle altre squadre Noi non siamo fatti Per restare a attaccarci ai rigori I rigori non importano Qualcuno è vincere Fine Basta Rigori o non rigori Non interessa Ok Allora Da questo punto di vista Se nel momento in cui viene messa Una formazione corretta La squadra inizia a giocare Vuol dire che Sarri Per quanto ci siano errori Mancanze della società Eccetera Ma Sarri Contro Lione La squadra per passare Ce l'ha Ok Quindi se non passerà Perché farà lui Errori La colpa sarà data a lui Dal mio punto di vista O meglio Io E ripeto Lo ripeterò sempre Io Sarri Gli dico questo Maurizio Se tu Mischieri una formazione corretta E poi dopo Si perde Non si passano i turni E si va fuori Dalle competizioni Ma la formazione Che metti tu Un filologico ed intelligente Io non ti dirò mai niente Allora la colpa sarà Dei calciatori Prevalentemente Perché poi Quando ci sono delle sconfitte È chiaro che la colpa È sempre di tutti Però quasi È un discorso Di percentuali Di una bilancia Che ha dei piatti Che pesano più di altri Tutto lì Però Allora la maggior parte Della colpa Sarà da dare ai calciatori Sarà da dare alla società Va benissimo Ok E a te non ti dirò niente Ma se metti una formazione Che ha senso Ma se tu mi metti Una formazione Che è sbagliatissima Ok E hai una rosa Che sicuramente Può passare Collione E mi vai a perdere Perché La formazione Che metti Una formazione Insensata Allora La responsabilità E il grosso Diciamo Della responsabilità È tuo È tuo Non è degli altri È tuo Ok Perché se tu Mi continui a mettere Un centrocampo difensivo Mi continui a mettere Pianish Regista basso Mi continui a mettere Di bala Come falso nove È chiaro Che tu Una squadra Che già non è una squadra Di fenomeni Me la depotenzia A livelli astronomici Ok E allora È chiaro Che poi dopo Tu è come se Avessi del materiale Sotto le mani E fai di tutto Per farlo Rendere Per valorizzarlo Il meno possibile Poi cosa succede Succede che perdi Allora A quel punto Rinsavisce Dice Aspetta Iniziamo Mettiamo una formazione Che abbia un senso Metti i giocatori Dentro La squadra avversaria È annichilita Perché tu Hai una rosa Più forte E perché tu Hai messo Una formazione Sensata Perché ragazzi Il calcio Non è mica solo fatto Da dei Da come giocano I calciatori Cioè Il calcio È fatto anche Da cosa dice il mister Cosa passa Scusate Cosa Trasmette Il mister Dalle disposizioni Tattiche Dagli uomini Che mette in campo A seconda di come Sceglie il mister Cambia tutta una partita A meno che tu Non abbia in campo Undici campioni assoluti Che allora Che ci sia un allenatore O che non ci sia Questi vincoli Lo stesso Perché sono fortissimi Ma quelli sono casi Che se ne sono Una squadra Ogni due o tre anni Che è così Ok Ma per tutte le altre squadre Juventus compresa I dettami Che dà l'allenatore Sono fondamentali Ok Ed è chiaro Che a seconda Di come l'allenatore Mette in campo La squadra Si fa la differenza Oppure no Ok Quindi La sconfitta E continuo a dirlo E la grande Maggior parte Di responsabilità È da dare a Sarri E da adesso in poi Sarri Siccome ormai Siamo tutti scoperti Abbiamo capito Gli errori che ci sono Non puoi più sbagliare Non puoi più Adesso giochi a carte scoperte Ok Quindi tutte le partite Che verranno Saranno un test Saranno tutti Dei test E si vedrà subito Quando farei qualcosa Di sensato O meno Stai attento E ti consiglio Per favore Ed è un invito Che ti do Di mettere le formazioni Corrette Perché qua Ne va Della stagione Di tutti noi Di tutti noi Ditemi Che cosa ne pensate Se il video vi è piaciuto Mettete un like Iscrivetevi al canale E a presto Ciao ragazzi